Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per la rassegna stampa di Fano TV, cari telespettatori come sempre alle 7.30 e poi in replica nel corso della mattinata e anche alle 1.30 quindi un saluto anche a coloro che ci seguono in replica, i giornali sono pronti, il resto è Carlino, Messaggero e Corriere Adriatico però prima guardiamo come sempre il santo del giorno, oggi è sabato 31 ottobre, Santa Lucilla, Vergine e Martire il sole è sorto alle 6.42 e tramonterà alle 17.01, vediamo il tempo, partiamo dalla nostra postazione meteo come sempre e ci rimanda appunto una temperatura di 12 gradi e poco più, è un'umidità dell'87%, zero precipitazione in questo momento e quindi insomma le temperature sono in linea con la stagionalità ecco la foto della nostra webcam che ci rimanda un bel cielo terzo, limpido è i raggi dorati del sole che scaldano le nostre colline, vediamo cosa dicono gli amici della protezione civile con la loro cartina, ecco le previsioni per oggi, sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti temperature in lieve diminuzioni in particolare nei minimi, venti di brezza attesa nei quadranti settentrionali il mare è mosso o molto mosso, il mare aperto però, ecco, vedete che compare la simbologia anche della nebbia sui rilievi all'interno, quindi attenzione alle prime ore del mattino se vi spostate perché questo è un fenomeno abbastanza ricorrente in questa parte dell'anno e lo schema per domani, domenica è il medesimo come potete vedere anche le didascalie sono praticamente un copio in colla, cielo sereno poco nuvoloso, precipitazioni assenti temperature in diminuzione e il mare poco mosso e anche qui durante le ore notturne formazione di foschia e locali banchi di nebbia, quindi insomma attenzione anche domani anche lunedì direi veramente tre giornate a coppia carbone, cielo sereno poco nuvoloso precipitazioni assenti, temperature in diminuzione e mare quasi calmo e quindi veniamo ai giornali visto che le previsioni del tempo non ci regalano sorprese, partiamo dal resto del Carlino la pagina di Pesaro e al centro la notizia appunto che probabilmente per il pensionato colui che aveva allontanato i ladri sparando dei colpi di fucile dalla finestra avrà un perdono insomma il caso sarà archiviato, vediamo la prima pagina del Carlino di Pesaro, c'è la foto insomma del pensionato, la denuncia nei confronti di Giorgio Cesaretti che ha sparato ai ladri va verso l'archiviazione, l'Asur poi non paga e quindi caos ambulanze, di spalla Valentino Rossi che va a Valencia con due legali oltre che con le moto e parte un colpo di pistola e finiscono in due all'ospedale, questa era la pagina iniziale del resto del Carlino ed ecco vediamo qui la notizia che riguarda il pensionato, spara i ladri, denuncia, va verso l'archiviazione, la procura ha ordinato di restituire le armi a Cesaretti che vedete in questa foto titolare del bar Mi Vida, ancora dalle pagine del resto del Carlino che troviamo insomma nelle pagine interne, dopo il lancio in prima pagina l'Asur non paga e sta zitta e la serrata delle ambulanze, trasporti sanitari quindi nel caos, i sindacati dicono c'è uno stato confusionale come voleva si confermare i limiti della politica di continuità della regione, vengono al petine e pesano errori del passato, quindi tempi duri per sia gli autisti delle ambulanze che anche per i pazienti. La pagina di Fano si apre con a centro pagina l'altro colpo di pistola, un altro colpo di pistola accidentale, ferito un anziano e un 26enne, siamo accaminate da una beretta parte il proiettile, tutti e due finiscono all'ospedale. Qual è la dinamica? La persona anziana stava mostrando l'arma al amoroso della nipote e insomma quindi c'è stato praticamente un fatto fotocopia rispetto a quello di Marotta che anche qui sull'ondata delle emotività, insomma di questi furti nelle case e sempre di più in maniera anche ravvicinata come tempo, ha scatenato questa paura e chi ha le armi cerca di tutelarsi, però questi sono i fatti. Natale, un Natale più luminoso, ci sarà un nuovo albero di Natale per tre anni, lo avremo in piazza, è opera dell'artista Paolo del Signore e dell'architetto Stefano Seri, lo vedete in questa foto, questo è un rendering naturalmente di come si presenterà, è alto quasi 13 metri, largo 6 e pesa la bellezza di 144 quintali, quindi insomma un peso notevole, è una struttura tutto in legno, modulare e l'impegno economico è di 45 mila euro, però ripartito nei tre anni in cui l'opera verrà utilizzata, di cui un terzo da sponsorizzazioni e da due terzi verranno dai fondi di gestione del Natale. L'ultima pagina del resto del Carlino che vi mostro, siamo a San Costanzo, ancora ladri in azione, sventato un ennesimo furto, i vigi urbani sono stati richiamati dal suono dell'allarme che era scattato e i ladri si danno alla fuga alla vista dei vigili urbani, qui vedete è la rete dalla quale si sono introdotti, dalla quale l'hanno appunto forzata e scavalcata, hanno forzato un portoncino e purtroppo la vittima racconta che questa brutta esperienza, questo brutto episodio è ben la terza volta che si verifica nella sua abitazione e sicuramente non dormiranno a sonni tranquilli. Torna all'antico splendore un organo nella chiesa di San Giovanni Apostolo di Marotta, qui vedete Riccardo Sabatini che mostra orgoglioso la sua opera, un organo del 1800, 520 canne e lui lo ha restaurato e riportato all'antico suono e all'antico splendore e qui lo sentiremo risuonare nella chiesa di Marotta quando verrà messo in funzione. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico e siamo a Pesaro per un importante avvio per tutte le maestranze e per tutto l'indotto, l'avvio del cantiere che si appresta ad accogliere appunto l'Allensander V, che battezza il cantiere Rossini, ha prodotto il primo mega yacht di quasi 50 metri destinato fino a primavera a un'opera di riallestimento, insomma quindi riparte la cantieristica sotto forma di ristrutturazione, ma questo può essere il là per ripartire bene così. Due camere di commercio, siamo a piedi pagina e regia unica per l'estero, le richieste di due al Presidente della Regione segnalati il ruolo strategico del quartiere feristico che non può gravare solo su lente camerale. Andiamo insomma all'interno, Pesaro e Urbino per il Corriere Adriatico, siamo ad Acqualagna, c'è una fiera importantissima in questo periodo, in questi weekend, per altri tre weekend, è un'alternanza di star e di chef ad Acqualagna per la fiera del tartufo bianco, insomma che fa da contraltare anche alle altre che ci sono. Di Francisca stoccata al tartufo, la campionessa sarà presente ai Conky Show questa mattina, questo pomeriggio insieme allo chef Ferrarini e quindi ambasciatrice del Verdicchio nel 2015. Nel mondo, ancora dalle pagine del Corriere Adriatico, siamo a Fano e qui il focus è sul Lantares, niente soldi, come vedevamo anche nell'estero del Carlino, niente soldi, Lantares ferma le ambulanze, l'agitazione minaccia, minacciata per il blocco dei pagamenti da parte dell'area vasta, rivendicati 60 mila euro, quindi trasporti sanitari nel caos per mancanza di fondi e poi convegno organizzato dalla diocesi, generazione in ecstasy per i ragazzi, il grave pericolo delle dipendenze e poi il poderino si avvia a una nuova viabilità, sensi unici per aumentare la sicurezza, ieri sono stati fatti i primi cambiamenti, per un paio di settimane gli operai cambieranno cartelli e segnaletica anche orizzontale verrà rifatta. Le pagine del Corriere Adriatico di Fano ospitano anche un articolo di Massimo Foghetti che parla dei risparmi di affitti per il Comune tra Caserma Paolini, parcheggio della Caserma e Codma con la Regione si risparmiano, si risparmiranno per quest'anno e anche per gli anni prossimi, ben 47 mila euro, ecco non sono cifre importantissime però insomma Totola diceva la lira sopra la lira fa il milione e quindi insomma questi insieme ad altri sicuramente migliorano le situazioni insomma di peso sulle finanze del Comune. Di spalla poi nella pagina di Fano del Corriere Adriatico un'alternativa insomma ad Halloween invece di svuotare inutilmente delle zucche può diventare un momento di solidarietà, una festa di solidarietà, siamo tra i ragazzi dell'azione cattolica di San Cristofo con il parroco Mauro che lo vedete qui in questa foto, anziché dolcetti e scherzetti si fa raccolta di cibo a favore dei poveri e qui insomma una tradizione per nulla nostra però può essere un'occasione per la parrocchia di San Cristofo per dare conforto ai meno fortunati. Poi un tamponamento in A14 ha causato qualche breve momento di coda qui davanti a noi e poi si inaugura questa mattina sempre sul fronte della solidarietà in via Lanci per il sostegno dei più bisognosi, un centro per la distribuzione dei vestiti. Andiamo a Senigallia perché anche a Senigallia la piaga dei furti è una piaga importante, una piaga veramente che si fa sentire, ladri scatenati anche qui a segno 10 colpi, spaccata anche qui delle vetrine nel bar Api di Serra dei Conti, furti in serie nelle case, rubati due furgoni e auto, insomma quindi veramente la situazione su tutta la nostra direttrice non è affatto tranquilla sotto questo punto di vista, sembra che ci sia proprio una recrudescenza di furti nei bar e in esercizi commerciali. Guerra dell'immondizia tra commercianti del centro, controlli della polizia municipale, siamo nel centro di Senigallia, dopo tante segnalazioni, multe da 400 euro in partenza dal comando dei vigili urbani di Piazza Garibaldi. Cambiamo testato, vi faccio vedere appunto l'ultima che prendiamo in considerazione, il messaggero, la pagina principale di Pesero, fotonotizia centrale, Valentino, Maxi Schermi a Pesero e a Tavuglia per guardare la sua controoffensiva e poi parte colpo di pistola e feriti in due, nonno e nipote, quindi una tragedia sfiorata perché effettivamente è stato colpito al ginocchio ma poteva andare sicuramente peggio se il colpo di pistola finiva un po' più in alto. Anche qui nelle pagine di Pesero del messaggero, primo yacht farà rinascere il porto, ormeggiata ieri, ai cantieri navali Rossini, un'imbarcazione appunto di 43 metri che vedete qui, il comandante della Capitaneria ha capuzzimato, dice lo scalo pesarese, verrà proiettato verso un profilo internazionale e il comune svende, siamo sempre a Pesero, nelle pagine dedicate a Pesero del messaggero, il comune anche qui svende appartamenti e terreni edificabili, si tenta di incassare 10 milioni di euro. L'assessore De Regis dice ci permetterà di raccogliere fondi per realizzare opere pubbliche e interventi importanti. Sull'ospedale unico, sull'ospedale unico si affaccia una nuova voce che fino adesso non avevamo sentito, è quella di Ucchielli che dice appunto ci siamo anche noi. Ucchielli in veste di Presidente dell'Unione Pian del Bruscolo scrive a Ceriscioli e a Marini, direttore dell'Asur e dice rappresentiamo una parte sostanziale del territorio e quindi chiediamo un coinvolgimento nelle scelte della nuova struttura. E poi Maxi Schermo a Tavuglia in piazza per tifare Valentino. L'ultima pagina che vi mostro come sempre è quella di Fano e in primo piano anche qui l'episodio di ieri pomeriggio, nonno pulisce la pistola, parte colpo, ferito il nipote. Tragedia sfiorata, siamo appunto a camminate. Entrambi sono stati soccorsi e portati all'ospedale. L'anziano si è ferito a un dito e invece al ginocchio il ragazzo di 26 anni. Poderino, nuova viabilità con passaggio di testimone. Lasagne piacciono a tutti e quindi alla Caritas un carico di lasagne in dono dalla Sardegna e nella parrocola di San Cristoforo appunto come vi ho detto un Halloween molto particolare per raccogliere vestiti per i meno abbienti. E poi, fanesi nel mondo, maratonetti a New York nel segno del Lisippo, insomma savelli e polverari nella maratona più famosa al mondo, indosseranno questa maglietta che adesso magari ingrandisco per farvela vedere un po'. Presidente, please, Presidente Obama, give us back our Lisippo, ridacci il nostro Lisippo, insomma per sensibilizzare Obama su questo fatto annoso che ormai veramente non vede la fine. Chissà che una maglietta non possa sbloccare il tutto. Grazie, naturalmente va anche in bocca al lupo ai nostri maratonetti per la performance sportiva nella maratona di New York. Bene, grazie, questa era l'ultima notizia, l'ultima pagina che vi mostravo. La rassegna stampa termina qui, tornerà lunedì mattina sempre alle 7.30. Buon sabato e buona domenica a tutti voi.